Sono contento della prestazione di oggi, ma abbiamo domenica prossima un'altra partita molto importante perché giochiamo con una squadra che sta di nuovo dietro di noi e quindi sarà sicuramente un'altra partita difficile come era stata quella di oggi in cui comunque abbiamo dato quello che c'era da dare. Quello fallo lì nel finale, l'isodio da VAR? No, io sono convinto fosse fuori, 100%, quindi non ci sono dubbi dal mio punto di vista. Vista da Porta, cosa è cambiato con il cambio del Vista? Sicuramente ci ha dato più compattezza, che era una cosa che un po' ci mancava nell'ultima giornata perché avevamo subito un po' troppi gol e quindi sicuramente il fatto di aver subito zero gol le ultime due partite non penso dipenda da me, ma comincia dagli attaccanti che si sacrificano molto per permetterci di subire meno anche le azioni degli avversari e quindi credo che un complimento da fatto a tutti per quanto riguarda il fatto che siamo riusciti a non prendere gol per le due partite di fila.